In questo video scopriremo come effettuare la chiusura di un pass. Se hai un pass associato a un'auto che hai venduto o rottamato, utilizza la funzione Chiudi pass per disattivarlo. Per accedere al servizio devi essere registrato. Scopri come fare sul video Registrazione al portale Profilo completo. Ora che sei registrato, puoi procedere con la richiesta. Sul portale www.comune.milano.it, fai clic sul menu Utilizza i servizi. Puoi accedere dal fascicolo digitale del cittadino oppure selezionare Servizi online. Nella sezione Mobilità, clicca su Pass online sosta per accedere all'applicazione. Hai clic su Chiusura definitiva Pass. Se sei titolare di molti pass, puoi utilizzare il menu Seleziona veicolo per raffinare la ricerca. Oppure selezionare direttamente il pass che vuoi chiudere. Fai clic su Chiudi pass e inserisci la data di chiusura. Quindi clicca su Conferma. Fai clic su Confermo per terminare la procedura. Ricorda, se hai acquistato un nuovo veicolo, dovrai richiedere un nuovo pass. Scopri come fare nei video del servizio Pass online disponibili per residenti o dimorandi. Utilizza i servizi online. Più facili, più veloci.